Oggi si registrano in Abruzzo 32 nuovi casi di coronavirus, 43 invece è il numero dei guariti. Incendio nella notte sulla collina di Monte Silvano, vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro per capire le cause del rogo. È stato soccorso oggi un alpinista sul Gran Sasso, si era lussato una spalla a quota 2000 metri. Scippa un'anziana e la fa cadere a terra, è stato condannato un giovane marsicano a 3 anni e 4 mesi. Rete ospedaliera, la Veri apre alle istanze dei sindaci marzicani, il piano arriva in regione. Domenica 11 luglio le vetture dell'Orient Express, il mitico treno degli anni 20, partiranno da Roma alla volta di Sulmona e Roccaraso percorrendo la ferrovia dei parchi. Tutti gli approfondimenti sui nostri giornali, Abruzzo Live e Marsica Live.